È stata un'impressione molto positiva, ho trovato un ambiente importante, una società che è sicuramente ambiziosa, ha molte ambizioni, vuole crescere e speriamo di partire subito bene. Io ho sempre cercato di rimettere la squadra prima di tutto, l'obiettivo è di continuare a crescere, di migliorarmi e di fare il meglio possibile e poi sicuramente ci sono gli obiettivi di squadra che valgono molto di più di quelli personali e abbiamo una grande voglia di far bene.